Aeroservice 21 Cagliari, buonasera, non ti vedo, solo confermi stand 21. Non mi vedi sullo schermo? Allora, paccheggio stand 25. Negativo, non mi appare niente. Ti posso chiedere se puoi provare a riconnetterti? Ok, va bene. Che palle! Che palle, che palle, sti cazzo di server di merda. Aeroservice 21 Cagliari, chi che palle, baring e semplice. Ero. Aeroservice 1 Cagliari... R견 110 Cagliari Rienare 7 Cagliari, Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Purtroppo ho fatto solo una rotation perché oggi ho spostato un po' di clienti in questa esterna che ho messo un'altra caratteria. Infatti mi sa che prossimamente posso spostare un'altra caratteria. Ad esempio la caratteria è più alta. Sì. Sì. Il shock of truss is set. Eighty knots. Rotate. Positive rate. Tira. Sì. 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 Arrivare la 7 km, continuo, rite, turno heading 290, clear, rite, 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 rite. Solo 3 km alle 7 km. Ingrid's on, back on auto, landing gear up and off, flat set, all right. Peroservice 381, Roma 127, 125, ciao. Roma 127, 125, Peroservice 381, ciao. Roma, radar ancora, buonasera, aeroservice 381, passing 120, climbing 140, inbound covers. Aeroservice 381, Roma, buonasera, radar contact, climb to final level 300, fly to Gorsi. Climb final 300, direct course, Aeroservice 381. Bene, fear boundary, livello finale, posso anche andare a vedere se c'è mapporato la spesa fuori dal pione rotto. Continuous 8,254,picious ansera, binnen king Herrera, RA aired splitting ca. Mirza, crises complaints, quién isa, mapporato la spesa unicum 이니. Bologna, 개인 Bad gr CI2,วก Rite, Rite Rite rite, 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 Rite d'�eldra Paso, their innovatorde aligned with��니. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.